Si facevano politica e sapevano anche quali erano i problemi. Ma io mi dico, ma come erano fatti da te? C'è il primo di parare di, guarda un po' la casa, cazzo, perché la parola fa una farmacia. Ma tu non ero fatti da te la farmacia. Adesso il petto se ne va una farmacia. Ma perché è farmacista? Che è una cosa che mi sa che viene presto presto. Perché lui oggi doveva essere qui, e questo glielo dico chiaro, lui oggi doveva essere qui, doveva essere presente e confrontarsi con i commercianti. sono dei lavoratori, con i cittadini a prescindere che sono le più importanti, perché siamo in un paese democratico. Allora cos'è questa democrazia? Quindi lui doveva essere oggi presente qui con noi, darci tutte le spiegazioni alle nostre domande. Noi abbiamo posto delle domande e ancora aspettiamo risposte. Non mutismo. Un mutismo a Lentini non serve. Non vogliamo un sindaco muto. La democrazia, questa è la risposta. O affrontarsi nel bene o nel male.